Si sta andando, vedi che sta andando, non mettere il titolo. Dai, andiamo a fare la stascia di spazio. Ok, ragazzi ora vi mostro il mio piccolo rifugio. Aspetta, segreto. Tranquilli, tutto a salvo. Qua c'è il tè, qua c'è il telefono, qua il mio piccolo kit per disegnare, perché io amo disegnare. Ok, venite a prendere lo teno con me? Ok, vediamo. Aspettate, devo prendere lo zaino per mettere la roba dentro. Scusate ragazzi, è che ho preso la foto camera di me da noi. Ora sono registrato io. Andiamo, su. Ma tu che dà non si ricordi dove sono, è? Ciao mamma, è accesa? Si. Oh mamma. Saluta. Saluto a tutti. Ciao. Ecco lo zaino che mi ha prestato mia nonna. Sono riuscita a prenderla. Scusate perci. No, noi buttiamo via questo. Aspetta. Brava. Sto andando a prendere la roba. Si, sto filmando. Mamma mia. Questa ragazzi è la parte peggiore. Ve lo assicuro da sempre. Una volta ci sono state, è stata sempre la parte più difficile. Ok. Facciamo tutto in grazia. C'è una specie di zanzarabo. Cover del telefono. Ok. Dentro c'era questo perché c'è anche la borraccia col tè. Ora lo metto, sì. Mi vedete? Non te la pesca, quello caldo io l'adoro. Sapete che io l'adoro più di quello freddo? Qual è il vostro hobby? Il mio disorno. Sto arrivando. Scusate, devo mangiare il chili di acqua. Arrivo. Sì, ma se filmi così, spegni e riaccendi dopo. Sennò viene un video troppo lungo, non va bene. Moto 1, moto 2, moto 3, moto 4. E non dimentichiamoci la bocca. Ho fatto il conto male? Hai spento? Ciao, a dopo. Qua si spegne degli anni.